L'emergenza coronavirus non risparmia proprio nessuno, i circhi e gli animali che vi lavorano sono vicini ad una situazione drammatica. Molti animali sono a rischio e le compagnie circensi, bloccate in tutta Italia, come gli artisti senza contratto, non hanno più risorse per garantire loro cibo e sostegno. Ci racconta questa situazione Yuri Bricherasio, appartenente ad una nota famiglia di artisti del circo e oggi noleggiatore di attrezzature. Volevo far notare che ci sono tanti circhi fermi in tutta Italia che hanno problemi per avere rinnovi di luce, dobbiamo pagare tassi di plateatico per rimanere fermi dove sono, obbligati, e in più ci sono le realtà degli animali, animali che devono essere mantenuti, devono mangiare tutti i giorni, ci sono artisti ai quali manca ora il contratto, perché probabilmente la stagione non sarà fatta e devono mantenere gli animali che cominciano a finire le scorte. Sono già finite le scorte per molte persone e considerando che si andrà avanti ancora per molto tempo, dovrebbero attivarsi le associazioni di animalisti, quelli che non considerano animali, quelli del circo insomma, oppure non aiutano la categoria circense neanche quando si tratta di aiutare gli animali. Quindi abbiamo bisogno di aiuti da parte di tutti, poi naturalmente ci sono anche le persone, ma a quelle ne possiamo parlare in un secondo piano. Adesso la cosa urgente è gli animali e poi aiuti speriamo che arrivano dopo da parte per circensi e per noleggiatori di attrezzature, di spettacoli, di eventi.